Ciao ragazzi, qui è Junksyi e oggi vi presento la mia a- Avete capito bene, avete detto bene il titolo Non si t, si t, no, non lo, di titolo, non si, titolo E sicuramente tutti voi vi ricorderete Bo, eh bo, eh bo, eh bo, eh bo Quel bot, bol, lo questo, quel bot, super Che vi rispondeva alle domande Per farvi capire, questo bot, strano, bello Da vero, livello, da vero Eccolespunata e vie bot, ciao e vie Ciao e E VIE I I I I I I I SUCHA Sei zitta don The next step NO sto scherzando donne Diventerò Re Nevi E NO DONNE Diventerò MOMO I AM SPEAKING I SU NAP WOW CIO E VIERE AAAAAAA WX SKU AAAAAA AAAAAA Grazie a tutti.